Oggi siamo in compagnia di Pierfrancesco Canali di Roma Servizi per la Mobilità, con lui parliamo di progettazioni stradali. Pierfrancesco, quali sono i progetti che state portando avanti? Per quanto riguarda le invarianti del Pums, in questo periodo stiamo portando avanti due progetti, due studi di fattibilità che dovremo consegnare, che consegneremo a gennaio al Ministero e sono la TVA, la Termini Vaticano Aurelio e la tramvia Piazza Venezia e Piazza Vittorio. E invece per quanto riguarda il tema della mobilità sostenibile, tema molto importante per tutti noi, i cantieri che sono iniziati su Lungotevere a Ventino e Porta Portese come stanno andando avanti? Sì, stanno andando avanti bene, è una pista ciclabile seppur corta, è un chilometro e tre, ha una rilevanza strategica per quanto riguarda la rete della ciclabilità, perché collega la pista ciclabile di Porta Portese, la pista ciclabile già esistente di Via Rubattino, la dorsale del Tevere e la pista del Circo Massimo. Nuovi progetti in atto? Sono tanti, per quanto riguarda sempre la ciclabilità siamo in consegna la ciclabile di Via Battistini, per quanto riguarda altre due ciclabili sono quella del Parco Scott, di Ardiatina e soprattutto sono state realizzate le ciclabili della Delibera del 76 del 2020, Covid, per quanto riguarda Decima, Piazza Cina, Tiburtino e Castopretorio. Grazie a Pierfrancesco Canali e buon lavoro. Grazie. Grazie a Pierfrancesco Canali e buon lavoro.